Benvenuti su Meteo Grad. Le previsioni meteo sempre con te. Iscriviti al canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per domenica 29 settembre 2024. Una serie di depressioni oceaniche in scorrimento sul bordo meridionale di un campo anticiclonico a sud della Groenlandia riattiveranno il flusso zonale lungo i paralleli che sposterà definitivamente verso Levante la saccatura fredda polare marittima in azione sul centro Europa, dove le temperature risulteranno abbondantemente al di sotto della media. Nel frattempo assisteremo ad un graduale rinforzo della pressione in area mediterranea ad iniziare dalla penisola iberica, con tempo in netto miglioramento e termiche in lenta ripresa. Previsioni meteo in area italiana per domenica 29 settembre 2024. Nord. Ampi rasserenamenti su tutte le zone, salvo qualche nube residua al mattino lungo i litorali alto-atriatici, dove non sono del tutto da escludersi dei blandi e deboli piovaschi. Dalla sera stratificazioni in ingresso da ovest. Centro. Deciso miglioramento con schiarite su tutte le zone, salvo qualche residuo fugace rovescio di prima mattina lungo le coste adriatiche, seguito rapidamente da ampi rasserenamenti. Sud e isole. Nubi sparse al mattino con possibili rovesci lungo la fascia adriatica e sul nord della Sicilia, seguiti da ampie schiarite iniziando da nord, che si concretizzeranno decisamente nella seconda parte della giornata. Temperature massime insensibile diminuzione, soprattutto lungo la fascia adriatica e dal centro-sud. Minime anch'esse in calo, marcato nelle zone interessate da rasserenamenti nottetempo e con scarsa ventilazione. Termiche ad 850 etto pascal, ovunque inferiori alle medie. Ventilazione moderata a dominante settentrionale con rinforzi da maestrale al centro-sud e sulle isole, dove le raffiche raggiungeranno intensità fino a forte. Venti in attenuazione serale. Mari da mossi sui bacini settentrionali a molto mossi procedendo verso sud, con moto ondoso in attenuazione dalla sera. Tendenza meteo in area italo-mediterranea fino a martedì 1 ottobre 2024 La temporanea ed effimera rimonta anticiclonica in area euro-mediterranea sarà presto rimpiazzata da nuovi passaggi perturbati dovuti ad ingerenze del getto nord-atlantico. Infatti, dopo una giornata di lunedì contrassegnata da tempo nel complesso stabile, salvo locali piovaschi in area alpina, da martedì assisteremo ad un nuovo peggioramento sulle regioni settentrionali. Il tutto sarà accompagnato da piogge a tratti intense e diffuse, che dal pomeriggio di martedì tenderanno a trasferirsi anche sulle regioni centro-settentrionali. Ancora stabile e soleggiato al sud e sulle isole. Temperature in aumento con venti in rotazione tra sud e sud-ovest. Grazie a tutti della vostra attenzione. Iscriviti ed attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti meteo.